Uno degli aspetti della povertà nelle periferie della nostra città è legato alla condizione dei più piccoli, dei più giovani. La comunità di Sant'Egidio organizza in città, a Genova, la Scuola della Pace, un doposcuola gratuito dove i bambini possono venire per fare i compiti, per studiare, ma come dice il nome, anche per stare insieme, per imparare a crescere in pace, anche se diversi. Nel tempo la Scuola della Pace è diventato un punto di riferimento, non solo per i bambini, ma anche per le famiglie che noi aiutiamo, con cui abbiamo un legame di amicizia e aiutiamo nelle difficoltà della vita quotidiana. Ma per rispondere alle tante domande che ci vengono poste, ecco, vi chiediamo un aiuto perché sia appunto un Natale veramente per tutti.